Qui nell'Alessandrino sono stati 20 comuni interessati dalle elezioni amministrative. Lo spoglio dei voti dei maggiori comuni della provincia di Alessandria non ha riservato alcun ribaltone. Tutto come da programma. Vincono i sindaci uscenti Paolo Spineto ad Arquata Scrivia, Nicoletta Albano a Gavi e Corrado Tagliabua a San Salvatore. Mentre a Castelnuovo Scrivia e Ponte Curone sono stati eletti candidati della lista uscente, entrambi del centro-sinistra, Pierangelo Luise ed Ernesto Nobile. L'affluenza alle urne è stata del 74,18% contro il 76,07% delle precedenti comunali, quindi in flessione di circa due punti percentuali. Il comune più ligio è stato quello di Borbello con l'affluenza dell'83,63%, mentre a Monleale, dove si è presentato solo un candidato, l'affluenza è stata di poco superiore al 63%. Ma vediamo nel dettaglio i nuovi sindaci dei 20 comuni chiamati al voto in provincia di Alessandria. A Merana è stata eletta Silvana Sicco, a Monleale Paola Massa, a Monte Castello il nuovo sindaco è Gianluca Penna, a Odalengo Grande Fabio Olivero, a Terzo è stato eletto Vittorio Giovanni Grillo, a Isola Sant'Antonio è stato eletto Ezio Pallavicini, a Cellamonte è stata eletta Carla Freddi, a Castelspina è stato eletto Claudio Mussi, a Morbello è stato eletto Gian Guido Pesce, a Castelnuovo Bormida è stato eletto Giovanni Roggero, a Olivola Monferrato Gianmanuele Grossi, a San Salvatore Monferrato è stato eletto Corrado Tagliabue, a Casell Cermelli è stato rieletto il sindaco uscente Enrico Mario Bastianino, a Ponti è stato eletto Claudio Paroldi, a Borgo San Martino è stato eletto Mirko Capra, a Bassignana Comune Commissariato è stato eletto Egno Ravarino, a Castelnuovo Scrivi è stato eletto Pierangelo Luise, a Gavi è stata riconfermata Nicoletta Rachele Maria Albano, a Ponte Curone Ernesto Nobile, ed infine ad Arquata Scrivi è stato riconfermato il sindaco uscente Paolo Spineto. E per oggi da Alessandria è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.